Era un testimone di Geova anche l'autore della sparatoria che ad Hamburgo ha fatto otto vittime in un tempio della comunità. L'aggressore era in possesso di portodarmi. Il cancelliere Olaf Scholz ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. La polizia di Hamburgo aveva ricevuto una soffiata anonima sulle condizioni psichiatriche dell'aggressore, identificato come Philip F. I rapporti tra l'uomo che ha sparato e la comunità dei testimoni di Geova che ha attaccato non sono ancora chiariti. Le autorità stanno indagando se se ne fosse andato di sua spontanea volontà o fosse stato espulso a causa di qualche tipo di controversia.